Arrivano 15 nuovi carabinieri, una buona notizia per il Polesine. Assolutamente sì, da lunedì sono operativi nelle varie stazioni dell'arma dei carabinieri della provincia di Rovigo 9-15 carabinieri. Tutti sono stati assegnati alle stazioni, alle dipendenti stazioni e tutti avranno compiti di controllo del territorio ai fini preventivi e ripressivi dei reati. Grazie. Prego.